In via San Felice nasce gran parte della paracanestro bolognese che voi conoscete oggi e nasce perché c'era una cartolibreria, che era la cartolibreria Bonetti in via San Felice del 64, dove praticamente tutti coloro i quali all'epoca, e stiamo parlando degli anni 60, 70, si occupavano di paracanestro a Bologna e in tutta la regione, facevano riferimento a questo luogo dove venivano ordite tutte le trame della paracanestro bolognese. Poi succede che la Virtus, squadra campione d'Italia prima della guerra, la sua iscrizione non viene accettata perché società sospetta di essere rimasta coinvolta col passato regime fascista. Ecco che allora Giovanni Bersani, che era contemporaneamente responsabile dello sport bolognese e anche comunque responsabile della paracanestro nella fortitudo, dice va bene, questi giocatori hanno il diritto di giocare in campionato di Serie A, lo faranno come fortitudo. E infatti comincia il campionato e si chiamano fortitudo. Poi il ricorso che la Virtus aveva presentato agli organi che non saprei dire quali sono dell'epoca viene accettato e quindi viene reintegrata alla Virtus. A quel punto, alla fine del giro in andata, molto sportivamente, Giovanni Bersani restituì la maglia alla Virtus. Ecco perché la Virtus ricominciò a fare la sua attività regolarmente, per cui la fortitudo ha dato vita alla Virtus. Virtus. Questa è la storia di un popolo, di gente che 40 anni fa ha compiuto un gesto che oggi è sempre più raro. Ha scelto. Tutto era molto più semplice all'epoca. Bologna, tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, era una città moderna ma legata alla tradizione. Ricca ma non egoista. Ma soprattutto era già da tempo la città del basket. Nel 1970 scegliere da che parte stare era molto semplice. C'era una squadra ricca e potente con grandi campioni ed un tifo che raggruppava la maggioranza degli appassionati in città. Aveva le maglie bianconere e la V disegnata sul petto e la strada spienata verso un futuro sereno e da protagonista. Ecco questa è la storia di chi ha scelto di stare con gli altri, quelli in cui il futuro sembrava tutto tranne che sereno. Quelli che tra mille vicissitudini hanno iniziato a sognare in via San Felice e che altro non avevano che i loro stessi sogni. Ah, dimenticavo, questa è la storia di un'aquila e dei leoni che da 40 anni ovunque la difendono. Il primo anno di sciù cominciamo a metterci non dove c'è la fossa perché all'epoca si poteva stare, cioè si cercava di occupare lo spazio centrale, delle tribune centrali. Cioè al palazzo uno entrava, chi prima entrava becava il posto migliore. Non era tutto numerato, non era tutto a settori. C'era la stampa, la poltronissima e poi tutto il palazzo uno poteva... Chi arrivava prima... Noi alle 1 e mezza eravamo già davanti al palazzo per beccarci in primi posti. Cosa succede? Quell'anno cominciano a numerare tutti i settori porelli, cominciano a numerare tutti i settori centrali, sia da una parte che dall'altra del palazzo. Quindi noi ci tagliano fuori, noi eravamo in una quindicina, ci tagliano fuori da un settore centrale, noi stavamo sotto la tribuna stampa circa. Allora ci spostammo dove c'è la fossa adesso, proprio perché numerarono i settori centrali. Mi ricordo che ci spostammo in quell'angolo lì e cominciamo che eravamo in una quindicina, una ventina. Quindi frequentavamo il palazzo dello sport, giocavamo sempre nei giardini dietro la piazza Zalita. Quindi io conoscevo il palazzo dello sport meglio di casa mia, sapevo tutti i punti dove si poteva entrare, fino a un certo anno c'erano 3-4 punti dove tu entravi quando volevi. Anche se il tuo problema non era per il basket, ma per gli Harlem, tutte le manifestazioni che c'erano a palazzo. Noi riuscivamo sempre a entrare. Vivavamo lì, era proprio la nostra zona. Poi da lì piano piano, piano piano, ogni volta che mi giravo vedevo sempre più gente. Piano piano la gente si è aggregata spontaneamente, fino a che si è riempito a mezza curva. Entrando dentro vedi questa marea di persone che tifavano per la Candia e questo gruppo di persone, sono stati una trentina che tifavano per la Cassera. Subito fui colpito da questo ardore di queste trenta persone che sfidavano questa marea di gente che chiaramente teneva dall'altra parte, pur non capendo molto di basket, perché era la prima partita che vedevo nella mia vita. Uscivamo dallo stadio, poi dopo ci trasferivamo dentro al palazzo dello sport a dare manforte ai ragazzi che erano Tullio, Manservisi, Marocco, tutte queste gente qui, lo Stagnino, e facevamo tamburi, trombe, delle belle cose. Allora non c'era niente e questi ragazzi erano sempre da soli. Allora per fare del gruppo, per cercare di fare una cosa fatta bene, noi del Bologna, quelli che tenevano anche per la fortitude o gli piaceva, ci trasferivamo lì e andavamo a vedere queste partite. Ecco, lì devo dire che in quell'anno lì, il 68-69, incominciamo il nostro gruppettino, Valentini, Manser, mio fratello Tullio, Biolchini, poi c'erano Disteso, Malferari, insomma vari personaggi, poi non posso dirli tutti, cominciamo ad andare nell'angolino di fianco alla tribuna stampa, ecco non era proprio la fossa vera e ci troviamo in questo angolo. Poi questa bandiera, che è un certo fosforo, c'era una bandiera dove l'Aquila prendeva un pollo e lo buttava dietro canestro, poi giocavamo contro la Reiere, portavamo le reti e facevamo oh issa, oh issa, veniva da Scavolini, cantavamo pescatori, pescatori. Parisini mi chiamò lì nell'ufficio, c'era anche Rovatimi, insomma perché Porelli numerò tutto il palazzo a quel punto lì, cioè tu per andare a vedere la Virtus, Porelli cominciò a numerare anche le curve, tutto il settore basso del palazzo, dalle prime sponde in giù, quindi noi eravamo tagliati fuori, dovevamo vederci i derby nel secondo anello del palazzo, per noi era una cosa allucinante. Noi andavamo tre ore prima, quattro ore prima della partita per beccarci i posti, insomma allora per reazione Rovati, Parisini, ci comprarono tutti i biglietti, sui che erano numerati, riuscirono non so come a comprare tutto il settore numerato e a darci i biglietti alla cinquantina di noi. La vera forza dei leoni che io ho visto nascere, era la forza dei leoni che poi a me piaceva più di tutto, quella che quando arrivavi in un posto c'era una calma, torna lei, mica da ridere, perché arrivava della gente che si faceva rispettare, diciamo, ecco. Erano quelli che quando entravano in un palazzo dello sport, cioè gli altri si aprivano come il Mar Rosso davanti alla gente, perché non si sa, così, tanto per non fare… Parisini un signore, Parisini sembrava che fosse il presidente del Real Madrid, l'Oden significabile, persona paccatissima, ascoltava tutti, parlava con tutti, incuteva sull'aggezione, era un gran personaggio, andava a pescare dei giocatori non so dove, a zero lire, era una gran gestione quella lì, era una gran gestione. Cominciò a sorprendere questo gruppo continuo che si presentava alle partite, che veniva anche in trasferto, ovviamente non era un gruppo come questi, allora erano veramente dei pionieri questi ragazzi, però si cominciava a capire che erano lì, non come semplici tifosi ad applaudire quando le cose andavano bene e invece fischiare o contestare quando andavano male, però questo gruppo lo si vedeva lì, sempre pronto a sostenere, quindi la presenza di questi che stavano così, forse piantando le prime radici, che poi adesso è talmente radicato che mi sembra quasi scontata che la fossa sia lì e sia cresciuta in questo modo, però allora questi ragazzi si davano veramente da fare, ovviamente non avevamo gli estressioni, però erano sempre lì ed erano una bella presenza, a quei tempi non c'era un gran tifo dei sostenitori, a quei tempi c'era molta gente che veniva a vedere il basket perché amava il basket e avevano vissuto il dopoguerra nelle sfide tra il Gira e la Virtus e trovandosi questa nuova squadra, giovane come al solito, molti si legarono appunto a questa società proprio per la novità che presentava Bologna. Perché poi c'era una tifoseria molto spontanea, cioè la gente partecipava molto di più all'epoca, nei momenti salienti delle partite, noi facevamo il tifo, però c'era tutto un palazzo che chiamava passi, ecco la cosa che mi ricordo io, chiamare passi 4.000 persone nello stesso istante, questa era la cultura Bologna della palacanestro, è così uguale alla Virtus, tu si dicevi passi, praticamente all'unisono, cioè chi andava al basket andava veramente a vedere uno sport, cioè ci si sentiva diversi. Prendevamo, non so, un giornale con quei pochi soldi che avevamo, dove si parlava di basket americano e tu sentivi, non so, Ferro, Lo Stagnino, tutta questa gente qui, non so, che parlava di Larry Beard, di questi giocatori inarrivabili e sembrava una favola, sembravano delle cose pazzesche, loro proprio se li sognavano anche di notte, è questo qui che mi ha fatto innamorare di questi ragazzi e della fortitudo, la voglia e il piacere del basket che noi avevamo, l'interesse, i Virtusini è sempre stata una moda. Un pubblico già allora caldissimo, fatto di persone che vivevano proprio l'atmosfera della partita e sentivi questo calore e ti sentivi anche protetto, era un bel modo di vivere lo sport secondo me. Il nome lo trovò Nicola Valentini, che prese spunto da uno striscione famosissimo dei tifosi del Milan, Fosse dei Leoni, e da lì iniziò praticamente la storia. Come primo abbigliamento facemmo una magliettina con pochi soldi, con scritto Fosse dei Leoni a Penarello. C'era un personaggio al palazzo, che era un personaggio incredibile, che si chiamava Sorbo, Sorbo, perché chi c'era, sa che di cui sto parlando, detto anche Fosforo, ci diede questo arasso, che poi bisogna ridargli, una specie di arasso tutto cucito a mano, dove si vedeva un canestro, un pollo e l'aquila che praticamente lo artigliava. Mi ricordo che quello fu il primo standard, era qualcosa che dovevamo sempre restituirgli. Poi venne fuori l'idea della Fosse dei Leoni, cominciò a girare spontanea questa cosa qui, che eravamo nella Fossa, abbiamo cominciato a chiamarla Fossa, fu una cosa che nacque piano piano, i primi cosi facevo le prime magliette con dei pezzi di metallo, con le lettere, i penarelli, Fosse dei Leoni, con le mascherine, che erano delle maglie di lana, delle canottiere. Avere un foulard dell'alco o dell'I.B. era una cosa da far vedere a tutti, proprio erano altri tempi, non c'era il banchetto, poi non c'era proprio niente, c'erano solamente i nostri strisioni fatti con dei gran sacrifici e basta. Allora ci fu un po' una svolta, ci fu il gemellaggio con l'Ultra del Bologna, perché l'Ultra del Bologna tra l'altro c'era il famoso bimbo che era un po' tipo il Buzz Spencer della situazione, quando arrivava il bimbo la gente si faceva da parte e da lì aumentò il numero, aumentò la consistenza, mi ricordo anche, cominciarono a entrare le trombe, poi c'era la cucaraccia, c'era la cucaraccia, mi ricordo un casino al palazzo e da lì diventammo sempre più forti, anche quando andavamo in trasferta, devo dire che non eravamo più i 50 che rischiavano di prendere le botte, con loro rischiavano di prendere gli altri. Con il mio amico Manservisi, che ci troviamo in Piazza Maggiore, perché al pomeriggio dovevamo parlare di cose inerenti, il basket, la fortitudo e quant'altro, allora facevamo via Barberia, dove c'era il ristorante, mi sembra che si chiamasse Cesari, ma adesso non sono sicuro al 100%, e allora facendo via Barberia, a un bel momento vediamo spuntare Bortolotti e Gigi Serafini, praticamente due montagne rispetto a noi due, che eravamo due ragazzini. Allora Manservisi si gira, posso fare il gesto, gli fa così e poi tac, così virtusino dei gran nomi, loro qui si guardano in faccia, poi ci hanno guardato per bene e ci hanno corso dietro, praticamente da via Barberia a Piazza Maggiore, sempre con questi due personaggi che correvano, di dietro noi a scappare e poi in Piazza Maggiore ci siamo defilati e l'abbiamo scampata bella, ma era tutto proprio più simpatica la cosa, fra l'altro ho rivisti poco tempo fa uno dei due e ricordando l'episodio si è messa a ridere con una pacca sulle spalle, solo che se allora ce la davano ci distruggevano. Mi piace più pensare alle prime due trasferte pesanti in qualche maniera, dove successe anche dei tafferuli e dei casini, che sono Brescia, mi sembra l'anno 81-82, contro l'allora Pintinox mi sembra, dove ci scontravamo con gli ultras del Brescia, dove per la prima volta mi ritrovai in una stazione di quel tipo e mi presi veramente tanta paura, perché fra l'altro i ragazzi di Brescia erano anche armati e è successo anche uno scontro dove un ragazzo dei nostri finì all'ospedale con due punti di sutura sul viso e dove però facciamo anche una bella figura, nell'ottica ultras facciamo anche una bella figura, anche se torniamo a casa col pullman sbragato. Quindi una trasferta che ricordo comunque con piacere, questa qua di Brescia, e la prima volta che andai a Forlì, in cui mi ritrovai anche lì in mezzo a dei casini in cui dovetti riuscire a svicolare, a salvarmi, grazie poi all'aiuto di alcuni ragazzi che mi vennero in soccorso, di una situazione in cui non c'entrava nulla, anche perché pagliamo in una trasferta di cui avevo 16 anni, credo, per cui non è che potessi fare molti danni all'epoca, c'erano altri che le facevano. E le ricordo con piacere perché erano comunque situazioni in cui andavamo da soli, andavamo senza polizia, contavamo solo su noi stessi, e sono quelle situazioni in cui hai anche imparato che devi far conto su te stesso e su anche gli altri, per cui l'unità di gruppo. In quegli anni ricordiamoci che c'era una rivalità accesa con Pesaro, che c'è certamente anche adesso, ma all'epoca era veramente altissima. E organizziamo una grande trasferta, eravamo 200 persone, me lo ricordo perché eravamo proprio 200 biglietti, e andavamo giù in treno e facciamo un corteo dalla stazione fino al palazzetto. Quello fu veramente una trasferta fantastica. Poi è chiaro che dei momenti bellici, dai tantissimi, abbiamo avuto anche il momento a Perugia, quando vincevamo una grande partita, quella fu veramente una trasferta importante, ma mi ricordo anche Fabriano, quando Puggetti, poveretto, rotolò per i gradoni, avvolto nella bandiera e ci furono tensioni incredibili. Mi ricordo una trasferta pazzesca a Trieste, dove c'era un pullman e i triestini all'epoca erano l'Arlingham, c'era l'Orel, squadra fortissima, con un pubblico appassionato, e noi bolognesi eravamo così, eravamo solamente 50, ma in realtà comunque è difficile, perché anche lì non è che i rapporti tra noi e Trieste fossero buoni. Poi mi ha cominciato a fare lo striscione, nessuna tempesta di succedere la nostra fede, viene proprio in quegli anni lì. Poi siamo passati anche i famosi anni in cui la polizia e quant'altro impedivano di entrare all'ostriscione Fosse dei Leoni, allora creiamo Viking, poi ci fu Rangers e quant'altro. E poi da lì siamo andati avanti, la fortitude è qualcosa che hai nel cuore, che quando entra per me non esce più. Mia mamma mi fece lo striscione Panthers, e mi dice, mamma per favore fammi lo striscione, lei mi sa cucirlo tutto così, poi lo striscione è sparito. E feci anche fare una tessera Rangers Fortitude, che l'abbiamo ritrovata da poco, bellissima, c'era la mia fotina dietro, con il numero di serie, eccetera, l'anno, e l'adesivo della Fosse dei Leoni, quello con l'arancia meccanica. Per me la coreografia era importante, mi ricordo anche a un derby, che al pomeriggio insieme a degli amici, tra cui Dozza, costruì dei cazzi bianconeri, sfondammo sopra il pomeriggio al derby, per entrare dentro, mettere lì un casino, poi trasferte varie. Era bella la coreografia, eravamo già leoni. avevamo 16-18 anni, e i tempi, quando è quell'età lì, sono sempre belli, va sempre tutto bene, non devi pensare a niente, e c'era molto goliardia, si iniziava, si vedeva la voglia di stare insieme, e praticamente, verso metà degli anni Ottanta, si cominciavano, diciamo, a buttare le basi, io penso, nella mia opinione, sulla Fosse che c'è adesso, pian pianino, il discorso di seguire sempre la fortitude in trasferta, portare sempre l'ostruzione, erano i tempi in cui si buttavano le basi per quello che siamo diventati. Penso che fosse il primo anno di yoga, se non sbaglio, una partita contro Pavia, diciamo che la partita in campo è stata sicuramente entusiasmante, esaltante, altrettanto è stato sugli spalti, questa cosa qua mi ha fatto innamorare, avvicinare, e non ci ho pensato un attimo a buttarmi in Fosse, anzi, mi ero prefisso di andare a vedere una partita della fortitude o della Virtus, perché comunque allora non sapevo esattamente come funzionava, vi dico che quella della Virtus ci deve ancora andare, però... Mi ricordo che all'epoca ammiravamo, non avevamo lo striscione Fosse dei Leoni, andavamo ancora in giro con Viking e Rangers, e praticamente insomma fui io a dire un po' agli altri ragazzi del gruppo che era giusto, visto che comunque cantavamo in curva Fosse e Leoni armati, eccetera, eccetera, di fare un striscione legato alla Fosse e l'idea venne guardando i milanisti, in questo caso i milanisti avevano un striscione con il quale andavano in trasferra che era scritto solamente Fosse, e la mia proposta fu quella di fare un striscione blu con la scritta bianca con scritto Fosse e Leone, finale, mi ricordo ancora quando Pinotti ce lo diede nella sede del Bologna Football Club dell'epoca, mi portò lo striscione nuovo di pacca Fosse, è un altro aneddoto in cui in realtà io non sono un protagonista perché non c'ero, fu la prima uscita di Fosse, nel senso che appena avuto, l'abbiamo portato in trasferta a Pavia, andarono dieci ragazzi a Pavia a vedere la partita, solamente che arrivarono tardi, lo misero in fondo alla gradinata mentre loro erano in alto e insomma sparì, alla prima uscita di Fosse sparì lo striscione, a quel punto i ragazzi si risero conto dove era finito lo striscione che era sotto una montagna di cappotti nella curva dei pavesi e visto che non è che c'erano dei bei personaggi all'epoca dei ragazzi nostri, erano tutti abbastanza ben piazzati, fecero un tale casino che i carabinieri vedendo quello che stava succedendo dissero che non succede mentre i ragazzi si stavano avvicinando appunto alla curva e arrivarono e presero lo striscione fuori da questa montagna di giubbotti e lo riportarono a casa. Ricordo centinaia, purtroppo oltre mille, ormai superate le 1500 partite, viste, trasmesse alla radio, trasmesse alla tv, ricordo trasferte memorabile dei tempi pionieristici con la Fossa a Castelfranco Veneto distesi sotto i tavoli da biliardo mentre infuriava una rissa abbastanza animosa, ricordo la trasferta di Fabriano a fine anni 70 in cui fui buttato giù dalle gradinate del palazzetto di Fabriano e Paolo Croce e gli altri vennero a liberarmi ma in realtà ero solo in infermeria e il giorno dopo quando mia madre chiese chi era quel ragazzo finito sul giornale ferito, non ebbi il coraggio di dire che si trattava di me e dissi un ragazzo che era con noi metà anni 80 a Cantù quando in due o tre in maniera molto furbesca diciamo così riuscimmo a sottrarre il bandierone copricurva ai tifosi canturini via Vismara in due aspettammo alla fine della partita anche all'insaputa gli altri ragazzi che erano già sul pullman ma non fu una cosa voluta così aspettammo lì fuori a vedere un po' l'evento gli eventi come si evolvevano abbiamo visto che pian pianino la curva di Canturina si è svuotata lasciando il bandierone copricurva l'ha attaccato in difeso a quel punto lì io e questo ragazzo ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto proviamo andiamo e là è come rubare le caramelle a un bambino non è stato poi così semplice perché mentre eravamo lì nella nostra opera di scioglimento dei nodini arrivò anche il custode insomma lì fra varie paripezie dialettiche siamo riusciti a farlo desistere dalle sue intenzioni di dire lasciate stare cosa state facendo quindi siamo riusciti a portare fuori questo bandierone sulle spalle e il cosa bello è che quando siamo usciti con questo dal pianello con questo bandierone sulle spalle i ragazzi della fosse che erano sul pullman hanno detto ci sono i canturini col bandierone andiamo a fregarlo e ormai prendiamo un fracco di legnate noi a 5 metri ci ha riconosciuto e mi ha detto dai aprite il baule dentro tutto e via tutti e lì siamo riusciti a fare questa cosa che è una goglia ardata non lo chiamiamo neanche un furto anche se forse a livello penale potrebbe essere un furto però per noi è una goglia ardata spero che ci sia andata in prescrizione diciamo che ho un conto aperto con i canturini io qua lo dico non so se poi prima o poi un canturino mi vedrà ma i canturini mi stanno un po' qua un po' perché forse qualcosa di buono negli anni l'hanno fatto anche loro però ovviamente come tutti noi della fosse quando vediamo qualcuno che può fare qualcosa di buono insomma dobbiamo allontanarlo e rimetterlo un po' a posto quindi quale migliore occasione di arrivare dentro al palazzo sport di Cantù anzi all'esterno scendiamo dal pullman però nel parapiglia si apre una porta di sicurezza entra e entriamo entriamo io il biglietto ce l'avevo in tasca fondamentalmente non era per non presentare il biglietto e l'ingresso ma era così si è aperta una porta andiamo a vedere cosa c'è dentro chissà mai cosa c'è dentro c'era i distinti laterali dei canturini in fondo i distinti laterali c'era la curva dei canturini io ho detto vabbè proviamo a vedere com'è l'emozione di vivere una partita in curva di Cantù entro in curva di Cantù ovviamente rigorosamente senza sciarpa e borghese e mi sono fatto una partita in curva con i canturini c'era uno striscione kamikaze che già la parola stessa un po' mi trasmetteva un po' di inquietudine però dico ma magari kamikaze comunque il loro gruppettino ce l'avevano finisce la partita inizio a smontare il loro striscione fate conto canturini concentrati unicamente a offendere i tifosi di Bologna tutti io dietro inizio a staccare mano a mano qualche cordicina e lo striscione cade sotto la curva dei canturini che è fatta praticamente tipo la festa dell'unità cade sotto la curva dei canturini dico beh basta scendere con calma speriamo che i ragazzi tengono ancora un po' botta intanto che offendono faccio sullo striscione e meno vengo via tempo che sono sceso le scale da questa gradinata improvvisata c'era già un ragazzo di cantù che ha pensato bene di piegare lo striscione per metterlo via io vi dirò gli ho dato anche una mano messo insieme lo striscione l'ha piegato l'ha lasciato lì in mezzo al gruppo e io ho detto cavolo allora anche questa volta non ci sono riuscito poi dopo nel frattempo i ragazzi di Bologna stavano uscendo dal palazzo dello sport mi ricordo una continua telefonata da parte di alcuni personaggi della fossa allora dove sei dove sei e io sto arrivando sto arrivando si vede che me lo sentivo ho detto intanto guardiamo il percorso esterno qualora dovessi riuscire ad acciuffare lo striscione per vedere se riuscivo ad attraversare lo spazio che dai canturini andava verso i bolognesi giungo all'esterno quando mi vede Pilutti già cambiato quindi per farvi capire un po' il tempo che era passato rispetto alla fine della partita e mi dice Grossi ma che cazzo fai qua io Pilutti ma che cazzo ti fai i cazzi tuoi insomma c'è stato questo scambio secondo me dopo poco Pilutti ha capito perché mi ha visto ripassare con questo striscione sotto braccio di corsa con dietro cinque poliziotti e penso venti canturini che mi rincorrevano io però avevo già acquisito quei cinque dieci secondi necessari per giungere al pullman prima del tempo vincere la partita Cantù l'anno dopo che sono andato via io da Cantù incontrare Grossi che scappa con lo striscione sotto la curva di quelli di Cantù è stato per me mentre io stavo litigando poi tra l'altro con un tifoso di Cantù perché mi dava del mercenario e quant'altro e poi vincevo lo scudetto vedere Grossi scappare con lo striscione è stato per me posso solo dire che ragazzi bisogna svegliarsi un pochettino un po' più d'accortezza iniziate dalle vostre categorie per poi arrivare alle categorie più elevate in trasferta sul Pullman accade veramente di tutto tante volte ci vergogniamo anche di quello che facciamo da quanto andiamo oltre ricordo un tentativo di una grigliata sul Pullman con quelle griglie piccoline che si accendono da sole e c'è da sole che non hanno bisogno di niente insomma c'è già il carbone c'è già tutto nel kit però fu un tentativo perché poi rischiamo di affumicare mezzo Pullman e finimmo la grigliata giù dal Pullman in autogrill e non stavamo andando a Trieste alla terza di campionato andavamo a Milano a vincere lo Scudetto come ogni volta qualcuno c'era chi portava un po' di salame un po' di pane io quella volta ho portato la grigliata però la grigliata era da fare quindi ho iniziato a spiegare un po' come si sarebbe organizzata questa grigliata e avevo individuato la parte bassa del Pullman perché era un Pullman due piani come il luogo dove si doveva tenere questa grigliata quindi sono andato giù ho iniziato a dire ai ragazzi che erano lì sedere che si sarebbe iniziata la grigliata erano penso 15 o 20 persone piano piano che la grigliata prendeva piede le persone se ne salivano sempre di più vi dico che quando è stato messo sulla rosticina la salciccia un fumanone pazzesco 80 persone al piano di sopra con questo fumo che saliva però vi dico la grigliata è riuscita bene la fortitudo per me anche per molti non è solo una squadra di basket ma soprattutto per chi ha cominciato negli anni 80 metà anni 70 come tante persone che immagino che avranno rilasciato le loro emozioni e sensazioni davanti alla telecamera era di più era anche una rivalza sociale perché noi eravamo i poverazzi i poveretti di Bologna loro i virtucini erano la Bologna bene i borghesi un loro striscione storico noi patrizi voi plebei rivolta a noi cioè noi eravamo i plebei quindi era proprio adesso non dico una lotta di classe però si veniva fuori da un periodo anche sociale particolare quindi veniva visto come una scelta di campo non solo come tifare una squadra punta e basta all'epoca negli anni 80 era una scelta di campo per tutta una serie una scelta classista proprio a mio parere e quindi ti è rimasto dentro soprattutto i più vecchi questa come posso dire questo non trovo la parola per dirlo però è qualcosa che va al di là del semplice sport del semplice basket noi siamo un popolo in qualche maniera nonostante il bloggesimento di cui abbiamo parlato prima però in questa serie C c'è un turnover sicuramente c'è un turnover però noi ci crediamo e andiamo al palazzo perché ci identifichiamo identificarsi significa non avere problemi se sei in serie C o non so dove vai perché tu fai parte di quell'ambiente tu fai parte di quella casa che è il palasport il paladozza il medison come abbiamo sempre chiamato e ci credi ti identifichi se hai la F scudata tatuata non puoi pensare di non andare in serie C ma è anche in serie D non esiste insomma siamo un popolo davvero per quello ogni avventura sportiva è fatta di simboli i migliori fra di essi sono fatti di carne ed ossa non servono eroi per entrare nella leggenda i simboli del popolo bianco-blu non sono da cercare tra i lustrini del gota cestistico mondiale ma in quelle canotte sporche sudate qualche volta grondanti sangue come di un tizio che dopo un derby vinto contro tutto e tutti veniva portato in trionfo col volto sanguinante prima del campionato c'era questa gli Oscar e il Dorado si chiamavano si chiamarono perché il Dorado era il nuovo sponsor della Fortitudo era il Dorado e era un quadrangolare ma con squadre forti c'era un derby con la Virtus con la Candy e poi c'era Napoli e Milano non mi ricordo un'altra squadra era un quadrangolare che si faceva prima come per campionato si giocava contro squadre forti e mi ricordo che il debutto del Barone fu contro Napoli che c'era Williams a Napoli e mi ricordo come si chiama quello il nuovo americano Schultz Scholl mi ricordo ancora mi ricordo che c'è 30 punti quella sera lì vincevo con Napoli in un torneo torneo Oscar e il Dorado contro la Fidic arriva questo giocatore maglia azzurra il Dorado col camelino rosso e lo chiamavamo Skull Skulls Skulls Shultz e fosse una partita fantastica loro avevano una squadra forte noi avevamo il Barone cioè il Barone era qualcosa che non aveva nessuno nel campionato italiano era uno che faceva la differenza trascinava la squadra faceva canestro si metteva dall'angolo come non so si cominciava a fare 5 su 5 dall'angolo dove si tira da 3 adesso tiri centrali rimbazzi schiacciate in faccia agli avversari stoppate se la giocava con tutti i migliori giocatori dell'epoca era temutissimo era il diabete e aveva il diabete cioè noi avevamo l'americano col diabete i giocatori con gli occhiali ne abbiamo avuti tutti noi Bergonzoni Granucci Paganini comunque c'erano quattro giocatori con gli occhiali c'era Iessi mi ricordo a Padova mi sembra ce n'era una a Pesaro Bertini che aveva gli occhiali noi ne avevamo tre con gli occhiali e l'americano col diabete ma questa era la nostra forza era quella lì capito quando Paolucci diceva eco numero 13 Gary Baron Schull c'era l'esplosione del pubblico e quella è una cosa che mi fa venire la pelle d'oca anche adesso perché noi abbiamo avuto tante bandiere in fortitudo se penso a Basile a Calto Maes mi immagino poi non so definire chi di più chi di meno sono stati veramente clamorosi Schull però è quello che è venuto a Bologna ha fatto cinque anni della sua carriera cinque anni in fortitudo era il vero spirito in fortitudo vero spirito in fortitudo perché c'era il combattente c'era la passione c'era l'umanità perché gli piaceva quando i bambini andavano a chiedere autografi lui stava lì e li filmava tutti c'era e non c'era il grande talento perché questa la grande la forza era di Schull che non aveva un grande talento però c'era l'orgoglio c'era la voglia di lottare fino all'ultimo mi ricordo un applauso clamoroso a Milano andavamo a giocare con il Simmental lui fece 37 punti Arthur Kenny 35 il Barone uscì e ci furono due minuti e mezzo la gente in piedi il Simmental era la squadra insieme a Ligny che era il più forte e si andarono due minuti e mezzo in piedi per applaudirlo il Barone è stato un grande esempio di come un giocatore non diciamo modesto tecnicamente era modesto tecnicamente per quei tempi dove c'era un giocatore della tecnica sopraffina con la grinta la mentalità la forza d'animo e la voglia di vincere potesse diventare un trascinatore io ho tanti esempi l'esempio però che mi viene per primo in mente quando a Zocca eravamo in ritiro guidati dal professor Perini a fare fondo ero già solo verso il traguardo ho sentito dietro battere dei piedi forti ho visto arrivare Schull sono rimasto interdetto mi ha raggiunto e siamo arrivati insieme sui traguardo io però stavo bene come ora e lui era morto e mi ha detto un junior non mi può mai battere ho capito ma era una corsa tra compagni di squadra ho capito perché questo giocatore sarebbe diventato poi quello che è diventato non era tanto diverso da nessun altro era un nostro amico era un nostro fratello a differenza dei giocatori americani anche dell'epoca lui per casi della vita per come sono andate le cose è diventato per noi uno di noi è diventato ripeto prima che un giocatore era un fratello un amico con cui spesso si litigava spesso si faceva cioè ci sono tante cose che ci hanno accumulato in tanti anni perché lui è stato qui cinque anni mica un minuto e per noi è stato un giocatore e soprattutto un amico è un fratello straordinario oltretutto lui aveva anche un modo di essere un comportamento che lo faceva era simpatico era simpatico nelle sue nelle sue follie eccetera ma è stato anche un personaggio straordinario adesso tutti quanti si mettono ai piedi i tube socks cioè i famosi calzettoni tubolari ormai li vendono in tutti i banchetti da tutte le parti beh quello che li ha portati in Italia è lui siccome qui da noi prendeva quando li prendeva 4 lire lui invece di pensare di tornare in America aveva pensato di arrotondare importando dagli Stati Uniti della roba beh lui aveva un amico che aveva una fabbrica di tubolari di tube socks come si chiamavano all'epoca non so come si chiamano adesso ma all'epoca si chiamavano tube socks e lui cominciò a far venire questi calzettoni particolari dagli Stati Uniti per cui di lì a poco in via San Felizio cento e tre secondo piano che è l'appartamento dove lui viveva non si poteva entrare perché erano pieni di cartoni di roba di calzettoni che lui faceva venire con tutte le varie questo con la riga blu questo con la riga rossa che vendeva tutte quante le squadre di paracanestro cioè i soldi li faceva poi così sostanzialmente perché si aspettava di prenderli da noi oddio li prendeva ecco quattro soldi ma insomma con fatica perché come sempre noi eravamo in bolletta e quindi io dovevo sempre inventare i soldi la mattina la sera e così via eccetera vabbè allora Gary ha avuto questo merito ma vogliamo parlare dei polsini salva come si chiama salva sudore chi gli ha fatto venire in Italia Gary Schull da Pompano Beach ecco questo era Gary Schull cioè uno che aveva talmente interpretato bene il suo ruolo che che faceva veramente parte del gruppo e siccome il gruppo soffriva non è che lui si è messo lì a fare la moina si è messo a cercare di arrotondare di prendere comunque su dei soldi per poter vivere la vita che gli piaceva poi fare per cui aveva poi la macchina di un certo tipo ma se la pagava con quei soldi lì perché con i nostri che già a contratto non erano granché ma c'era anche la fatica di prenderli e lui tutte le mattine veniva a prendermi per gli stracci perché voleva i soldi e tutte le mattine finiva che andavamo al bar Donini dove alla fine mi pagava lui da bere un accettivo solo un fratello il suo spirito è quello che poi è rimasto ed ora ancora viene ricordato lui aveva una carica agonistica e una dedizione a questa maglia forse perché pur essendo un buon giocatore in America in Italia ha trovato la sua America ha potuto esprimersi migliorare e quindi per noi in quel periodo è stato uno di noi il cuore forse il cuore pulsante e noi tutti attorno a lui era il più forte quindi avevamo questo atteggiamento ed era uno di quelli che non dormiva di notte per i derby aveva messo dietro la sua schiena una fotografia di Terry Driscoll che era il migliore americano che aveva preso in quel periodo la Virtus e tutti i giorni se lo guardava e dato che questo era un giocatore altamente qualificato altamente onorificato da tutti quindi lui pativa un po' soffriva questa mancanza di notorietà però pensava di essere più forte non lo era tecnicamente ma sicuramente lo era a livello caratteriale come poi la fortitudo quindi lui da allora ha rappresentato proprio se uno può pensare la fortitude al cuore al carattere non può che raffigurarsi in Shul quei giocatori che mi dispiace dirlo adesso non ci sono più perché aveva cuore aveva tecnica aveva tutto secondo me un giocatore che amava la maglia quei giocatori meravigliosi di una volta che purtroppo adesso sono solamente mercenari fai fatica a trovarli giocatori che ti davano il cuore magari perdevi la partita però parlavi non so per una settimana di quel rimbalzo che aveva preso di quel canestro che aveva fatto e per noi era già era una cosa bellissima parlare di queste cose avevano cuore mio padre era molto amico di Tesini onorevole Tesini che era presidente e mi portava giù negli spogliatoi spesso a salutare i giocatori prima partita e Viola gli altri il balone anche stesso mi faceva toccare le scarpe mi ricordo le scarpe per portare fortuna deve essere voto ci sono andato e spesso hanno vinto e quindi mi hanno richiamato voletieri e mi ricorderò sempre questa mi ricorderò sempre una cosa incredibile mi fece assistere a una partita non mi ricordo quale fosse ma all'intervallo tra primo e secondo tempo nello spogliatoio e sentire l'allenatore che redaguiva i vari giocatori che avevano giocato male eccetera e le urle che faceva il barone e gli altri giocatori per ricaricarsi e io rimasti veramente impressionato era una sensazione di voglia di vincere di partecipare una forza agonistica che raramente si trova nelle squadre di basket professionali avevo conosciuto solo superficialmente ma proprio in quegli anni ho avuto l'occasione di conoscere personalmente quando è venuto qua a Bologna invitato da noi un paio di volte in particolare per la festa del primo scudetto e mi bastò vederlo un attimo guardarlo negli occhi anche se non era più un atleta anche se aveva qualche cappello bianco anche se aveva qualche chilo di troppo come me e capivi subito qual era la sua luce qual era quella miccia che lui era riuscito ad accendere in quegli anni e a far rimanere accesa fino ad oggi perché te lo trasmetteva prima con lo sguardo e poi con le parole io a Maurizio Ferro gli portavamo la borsa alle fine delle partite e il Barone il Barone incarnava lo spirito fortitudo secondo me Gary Barone è quello che ha fatto capire a molta gente che lo spirito della fortitudo era quello entrare in campo e non entrava in campo per giocare entrava in campo come un campo di battaglia dice io devo vincere tu devi perdere proprio la sua la sua voglia di giocare nessuno sa che il povero Barone era diabetico e lui fino al venerdì si faceva le cosiddette perine di insulina al venerdì sera non lo vedeva più nessuno si ritirava completamente e giocava la mitica partita sua che io vidi che c'è il quadro dentro al passo dello sport quando lui esce insanguinato con Martini lasciamo perdere che lo sostiene altri tre quello è l'emblema della fortitudo vincere contro la Virtus che era quella dei ricchi la squadra dove si potevano permettere di contare dei fenomeni ma non avevano fatti conti con questo personaggio che incarnava lo spirito fortitudo erano bravi anche gli altri ma il barone per noi era come Braveheart nel film lui se voleva vincere vinceva lo spirito fortitudo diffidate da chi dice di sapere esattamente cosa sia lo spirito fortitudo infatti non è una cosa che si può conoscere sapere spiegare è una roba che ti entra sotto la pelle nelle gambe in gola lo spirito fortitudo non si può raccontare ma lo si può leggere negli occhi di chi sul campo sugli spalti ha combattuto per questa maglia perché la fortitudo godeva di inattese simpatie nel campo artistico bolognese non solo quali sono i primi volti noti che si avvicinarono a questo spirito quello spirito qualunque cosa sia lo sente chi indossa la canotta con l'aquila lo sente chi salta sugli spalti accompagnando con la voce e con il cuore il pallone dentro la retina intanto è amare il pericolo amare le montagne russe perché anche nei tempi bellissimi che tutti noi ricordiamo i tempi della gestione Seragnoli essere tifosi della fortitudo non era così facile insomma ti sottoponevi anche a delle grossissime delusioni però io di quel periodo ricordo solo le cose belle le delusioni me le sono già tutte dimenticate perché credo che sia questo lo spirito che ti lega alla squadra cioè l'amore come quando tu ami una donna capito ami solo ami e ti rimangono le cose belle anche quando poi casomai non stai più insieme perché la fortitudo è fondamentalmente poi quella è una passione è una passione vera nella quale tu ti riconosci completamente e questa è poi la grande forza che ti lega alla squadra che ti lega alla tifoseria credo che la tifoseria della fortitudo sia una anche delle più delle più belle dal punto di vista dell'impegno non mi dimenticherò mai quando c'è l'anniversario della morte dei ragazzini della scuola di Casalecchio la fortitudo la fossa credo che sia rimasta una delle poche realtà che si ricorda di quel evento tragico e questa è la forza della tifoseria della fortitudo essere un'entità positiva di questa città Gaetano era un grande tifoso della Fiorentina e parlava solo di calcio io pian piano oltre ad essere un tifoso del Bologna e quindi insomma a parlare di calcio l'ho pian piano contagiato col mio amore per il basket che veramente in quegli anni era molto intenso quindi tutte le domeniche ero 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 al palazzo praticamente e quindi pian piano riuscì a contagiare Gaetano e praticamente l'ho convinto ad andare a vedere la prima partita e da lì in poi è rimasto ed è diventato un grande tifoso della fortitudo l'atmosfera che si crea quando tu con i tuoi amici parti e te ne vai in auto puoi vedere la fortitudo la domenica e sono forse i primi momenti di libertà anche che un ragazzino come me poteva avere i primi momenti in cui ti senti un pochino indipendente e in cui scopri la gioia dello stare insieme ma a livello di gruppo la parola gruppo che per me ha rappresentato tanto in quel periodo perché iniziavo anche ad avere un gruppo musicale però il primo gruppo che ricordo era comunque dello stadio oppure del paladozza ecco della fortitudo del palazzo il sogno di seguire una partita in radio per esempio con gli amici a casa quando la fortitudo andava in trasferta con questi boati allucinanti che mandavano in distorsione le casse ti procurava delle emozioni che ancora oggi mi fanno vedere la pelle d'occa se ci penso ecco beh è quello che mi porta ad andare a vedere su internet i risultati di un campionato di dilettanti quello che quello che magari mi fa parlare di pallacanestro non non il giorno successivo alla vittoria in campionato ma a una a una partita giocata in un palazzetto dello sport da 500 persone di capienza o forse anche meno è appartenere a un credo è un sentire qualcosa che va oltre a quello che può essere un risultato sportivo una vittoria cioè io mi accorgo che ad esempio anche in questo momento drastico che abbiamo passato è bruttissimo di sofferenza di depressione mettiamola come vogliamo dopo la doppia retrocessione io non vedevo l'ora di poter ripartire rivedere la fortitudo in campo a prescindere dalla categoria perché è proprio un qualcosa che sentivo dentro il pubblico delle squadre di pallacanestro sempre vive con grande passione e attaccamento le proprie emozioni nei confronti della squadra penso che la cosa unica che ha il pubblico della fortitudo è che prescinde dai risultati la passione è sempre costante o perlomeno da parte dello zoccolo duro a prescindere dai risultati questa è una cosa che per un giocatore è comunque molto forte ti tiene molto vivo e molto attivo quando poi invece diventi fruitore del palazzo e vai a vedere le partite te la godi è una roba che ti fa percepire di essere quasi unico è una roba che ti senti addosso e non ti togli più ti senti per esempio ed è una una cosa che ti senti tua più ecco io ad esempio quando mi è capitato a volte di parlare di questa cosa qui e lo spiego io difficilmente mi sentirò orgoglioso di essere bolognese mi piace Bologna quindi non voglio sminuire però quello è un caso cioè una fortuna se io sono nato dalla parte ricca del mondo piuttosto che in Africa è un caso una fortuna quindi mi ritengo fortunato di essere italiano di essere bolognese ma non ne vado così orgoglioso vado orgoglioso di essere fortitudo perché quella me la sono scelta cioè quella è proprio una roba mia ma sai spiegarli è difficile perché la fortitudo secondo me chiude tantissimi ideali soprattutto in un momento di sport come questo dove gli ideali purtroppo molte volte vengono meno io vorrei dire che basta entrare al paladozza e mettersi a bordo campo per assistere a una partita dalla fortitudo e si iniziano a scoprire quali sono gli ideali che possono legare uno sportivo o un appassionato di basket a una società e a una squadra di basket la fortitudo non è solo la squadra di basket ma secondo me lo specchio della fortitudo è la gente che la circonda è la fossa dei leoni è la tifoseria ed è tutto quell'insieme di cose che ti fanno capire che fortitudino non è un'eresia ma secondo me tante volte è veramente uno stile di vita entri in campo e hai 4.000 5.000 tifosi e in particolare una particolare ala che ti incita dal primo all'ultimo minuto credo che non solo in Italia ma sia insolita in gran parte dell'Europa se no nel mondo io ho giocato in tanti campi e posso dire non è una ruffianata perché per chi mi conosce sa benissimo che dico quello che penso senza regalare nulla a nessuno però in effetti una tifoseria che riesce a tifare il proprio giocatore il proprio in quel caso lì Beniamino in quella maniera lì non si trova tutti i giorni ma quello che più mi stupisce e quello che più mi sorprende non solo me ma tanti altri giocatori che hanno militato tra le file della fortitudo è l'accoglienza che hanno i giocatori che hanno cambiato squadre per varie ragioni e sono tornati lì o da avversari o da spettatori l'accoglienza che hanno è qualcosa di unico di particolare che non trovi negli altri campi e guarda lavorare lavorare in fortitudo è impossibile per uno che è senza amore veramente impossibile perché è una società messa così con la gente prima di tutto con cuore che ama questa società che ama la gente che è legattissima per la società e tra loro per me fortitudo è una una società perfetta per selezione naturale questi senza cuore non possono rimanere a lungo là ricordo un momento in particolare che quando noi abbiamo vinto il secondo scudetto cui io effettivamente sono più legato più che al primo ci fu la festa e fu una festa piuttosto spontanea e c'era Repesa che io ho amato molto che doveva andarsene almeno da voce di corridoio e partì ovviamente lanciato dalla fossa da chi poteva fare così un coro meraviglioso commovente cioè che si cantò non ho mai sentito niente di più squarciante dentro il palazzo che quel coro di quel giorno che diceva resta con noi magico Jasmine credo cioè tutti cantavano c'erano 5.000 persone che cantavano con quante più voce avevano tutti con le lacrime agli occhi fu una roba pazzesca la cosa che mi ha toccata di più era in due o tre frangenti di mio amore intenso con fortitudo poi allontananza di distanza solo non di spirito poi ritorno e diciamo mio primo anno intero con fortitudo noi abbiamo perso prima partita che in qualche maniera tutti tutti pensavano che noi dovessimo andare in A1 noi abbiamo perso contro la Modena prima di stagione mi ricordo Jan Lockhart e Darnell Valentine hanno giocato in quella squadra e noi abbiamo perso torniamo in casa e tutti ci dicono guardate che vi ammazzano adesso sarà un casino io tornai lì e e vedi un grande cartellone che diceva di mio figlio che era proprio nato che dice benvenuto in mondo Mirzali Begovic per me questa cosa è stata più di contratto è stata più di qualsiasi altra cosa per me l'amore l'amore incondizionale con la fortitude con la forza era nato proprio in quel momento quando è nato mio figlio quando forse addirittura mi dichiarò questo benvenuto al mondo di mio figlio nonostante che abbiamo perso per me la contratto vale carta e contratto valgono soldi conto in banca ma questa cosa questo amore con forza non si è mai spento più non mollare mai di non mollare mai io sono qua da cinque anni ti dirò la verità che il primo anno soprattutto è stata durissima pensa avevo lasciato la fortitude da capitano avevo vinto potevo fare quel che volevo sono venuto qua come uno dei tanti e niente ho dovuto ricominciare da capo praticamente è questo mi sono portato dietro la cosa di non mollare mai che anche nelle difficoltà bisogna sempre sempre crederci quello che fa divertire la gente quello che fa divertire il tifoso fornitudo quello che lo fa star bene è il vedere una squadra che crede in quello che fa che rispetta i colori che porta e che al di là che sia più o meno brava della squadra che ha di fronte non molla non molla mai e mette sempre il cuore sul campo fino adesso l'abbiamo fatto la gente la gente non vuole non vuole soprattutto vedere le grandi giocate o vincere sempre vuole vedere della gente che dia emozioni che dia qualcosa A-dilettante B-dilettante Serie A1 Eurolega è uguale quando tu vai a vedere la fortitudo quando tu vai a vedere una partita di basket vuoi uscire emozionato sentire di appartenere a qualcosa che poi sembra sembra stupido insomma ai giorni nostri però c'è la voglia di credere in qualcosa in un chiamarlo ideale magari sembra volergli dare troppo importanza ok però è un po' così è un senso di appartenenza sapere che tu fai parte di questa famiglia ecco insomma io ne faccio parte perché sono cresciuto lì e quindi è la mia storia insomma ed è la storia di molti insomma sono stato contagiato da questa da questo bisogno da questa grande voglia di partecipare a un evento positivo o negativo che fosse perché poi alla fine nonostante fossero anni ricchi però sono state tante finali perse e quindi però con con una grandissima con un grandissimo senso di appartenenza cosa che non avevo mai provato nel basket ma anche nello sport io non sono un tifoso di calcio non sono mai stato uno che ha come dire sentito il palpitar del cuor per la bandiera e invece qui è successo un qualcosa di diverso per la prima volta ero già grandino perché avevo già 40 anni quindi è stato come quando dici perché ti innamori di una che magari non ti fa neanche stare benissimo è perché ti innamori cioè non c'è una motivazione psicologica e logica per quanto si possano provare altre squadre come i cugini per esempio nei loro tentativi ma non c'è mai stato niente nessuna tifoseria che è riuscito a arrivare a questi livelli di passione e di trasporto e soprattutto la cosa più importante è che anche quando le cose vanno male loro ci sono sempre stati sempre dalla parte di quelli che scendevano in campo dalla parte di quelli che vestivano e vestono una F con uno scudo attorno c'è un clima che è diverso che si vive si vive costantemente poi delle volte per qualcuno può essere pesante questa cosa qua io ci sguazzavo devo dire la verità io ci ho sguazzato per sette anni che ho giocato qua e anche dopo e anche adesso io godo a essere fortitudino e a venire a vedere e godo anche in questo momento parlando di basket anche se siamo in B1 fa un culo cioè la fortitudine è la fortitudine il fortitudino rimane al palazzo è un po' cioè il palazzetto non si svuota perché c'è un brutto risultato magari c'è qualche polemica qualche insulto però non è che non ci va più nessuno né quando vieni né quando perdi ecco si sta insieme nel bene e nel male poi è chiaro che in certo periodo sono saliti molti sul carro però il fedelissimo rimane sempre ah sì loro ti dico loro sono la tifoseria la migliore del mondo forse cioè loro hanno ne hanno subite anche tante comunque sono sempre lì a cantare vengono in trasferta ci sono sempre loro sono veramente il sesto uomo in campo il giorno della promozione dalla 2 alla 1 stagione 93 la squadra di Dario Bellandi che vinse la partita decisiva in casa contro Rimini io ero vice allenatore ero un giovane allenatore di 26 anni e mi ricordo ancora con veramente grande emozione quando ci siamo ritrovati tutti quanti era ancora la fortitudo prima dell'era Serranioli quindi in un momento in cui non avevamo ancora toccato il massimo e la fortitudine in quel momento lì era abituata a soffrire sempre come tuttora del resto ci siamo ritrovati tutti quanti con i giocatori con la fossa al 7 più locale mitico degli anni 90 di Simonini ed eravamo lì a festeggiare la promozione una promozione insperata proprio nel momento in cui stava per entrare Serranioli in società ed è stato bellissimo vedere la grande unità di intenti la condivisione la complicità tra i giocatori e i tifosi in quel momento lì fuori dal campo davanti a birra a fiumi con gente ebresca è stato bello vedere la semplicità di cosa significava stile terzo tempo del rugby stare lì insieme a festeggiare perché la passione non è non è non è in vendita non è un acquisto che si può fare o un vestito che si può comprare poi dismettere a seconda delle mode la passione è quello che hai dentro è come per una persona quello che è lo è tutta la vita quando è vero quando è sano quando è è sentita poi ci sono le situazioni in cui uno recita in cui uno cerca di essere quello che non è ma quelle sono mode sono passaggi che poi muoiono e ciò che uno è veramente dentro se lo porta tutta la vita è la passione per una squadra e il sentimento per un simbolo un colore rimane per tutta la vita e quel simbolo e quella passione insieme poi determinano il sold out ad Azzarita piuttosto che invece dei buchi in serie A per tanti club oggi noi assistiamo nel mondo sportivo a mio avviso ad una degenerazione del tifo e del considerare così l'attaccamento alle proprie squadre i propri colori mentre invece qui a Bologna e nella fattispecie ecco i tifosi della fortitudo credo che abbiano la capacità di interpretare l'essere sportivo nel modo giusto ecco quindi è una cosa molto positiva della quale io mi rallegro e che spero che anche ai nuovi ragazzi che vengono formati e che si affacciano al mondo della pallacanestro possa essere trasmesso questi valori eravamo 12 squadre io ero uno dei 120 giocatori italiani che giocavano in serie A e quindi e c'era serie A serie B serie C e serie D e intorno sentivi un ambiente che ti proteggeva e la gente conosceva i nostri nomi e i cognomi di tutti i giocatori mi ricordo ancora i cori baci calamai sono finiti i nostri guai ecco è un qualcosa che ti dava una spinta in più la passione smisurata verso il simbolo verso l'identificazione della squadra io definisco squadra ovviamente i ragazzi che scendono in campo per cui a prescindere da chi scende in campo e lo si può notare da tante piccole cose io la cosa che mi colpisce di più la cosa che faccio notare è ad esempio in quanti siamo tatuati ad esempio o per la fortitudo o per la fossa l'altra particolarità appunto è la fossa nel senso che se è 40 anni che la fossa dei leoni esiste c'è un motivo anche di riconoscersi in essa per la fede che ha sempre messo rispetto alla fortitudo verso la fortitudo noi in questi anni abbiamo cercato di tramandare questo chiamiamolo credo ai più giovani quelli che sono venuti non pensare di andare al palazzo ad assistere solo a uno spettacolo sportivo bello brutto che sia che si vinca o si perde non è quello il discorso però uno spettacolo sportivo ma abbiamo voluto inculcare nella testa di queste persone una identificazione nel simbolo del leone della F per far sì che appunto anche a queste persone più giovani che non hanno vissuto quel periodo storico quel periodo storico particolari rimanesse qualcosa dentro soprattutto nel periodo diciamo di Serangoli in cui era facile venire a tifare fortitudo perché era una fortitudo vincente e si sa bene che quando una squadra vince tira dei tifosi li attira fa divertirli e noi abbiamo cercato in quel periodo di dire ragazzi prima o poi finirà questa cosa non puoi vincere in eterno quindi non dimentichiamoci mai da dove siamo partiti perché se ci dovessimo dimenticare le nostre radici le nostre origini non avremmo futuro come nasce la rivalità con la Virtus quali sono le prime stracittadine nelle quali la fossa presenziò al fianco di giovanotti bianco blu cosa significava in quell'epoca star dall'altra parte qual è il primo derby che ci ricordiamo la fossa e le sue storiche coreografie gli striscioni i colori i tanti culi rosa a forma di V il derby insomma chiamo questo palazzoniano mezzo matto a un derby così allora lui comincia a guardare insomma non so uno gli dice guarda quello lì un dirigente della Virtus era messo sotto la fossa un dirigente della Virtus che non è Porelli non era Porelli era Gandolfi lo dico perché insomma allora diciamo oh Sirena quello lì è Gandolfi ma così parlando Gandolfi insomma cominciamo a fare dei cori allora vedo Sirena che tira su un catarro era lì che rimuginava che tirava su di narici di gola di mucosa tira su un catarro così in bocca così se lo rimuginava così poi parte dalla ringhiera è partito un catarro così è andato sulla giacca di Gandolfi qui dietro con tutta la pava che scendeva e con Gandolfi che niente lui si è girato che ha sentito che qualcosa alla tavola pensava fosse una pallina di carta pensava che fosse dopodiché vedo questo che prende un bicchiere va nel bagno prende la carta igienica e vuole dare fuoco a Gandolfi cioè dare fuoco alla cosa di guarda fuoco no avevamo una caratteristica allora quella di trovarci sempre la sera prima dei derby a casa mia per preparare la cosiddetta noi la chiamavamo in un modo così un anello lo chiamavamo l'anella dove dovevamo prendere con questa anella il toro per il naso che era poi la Virtus nei derby e quindi giocavamo a carte una sera addirittura riuscimmo a far venire anche l'americano della Virtus che si chiamava Suogerti che giocavamo anche a carte il giorno dopo gli dimmo anche la paga e questo americano ci prese sotto dai dirigenti dal povero Porelli eccetera proprio perché si lasciò convincere dal nostro americano a venire alla nostra festa di preparazione al derby che per noi era tradizione proprio mi piaceva vedere le scazzottate devo dire la verità ci sono state tante scazzottate finiva tutto lì magari c'era un occhio nero insomma non c'era la violenza particolare però sempre il discorso del ragazzino le bande ragazze da via palla ecco mi faceva spese a vedere questi ragazzoni grandi e grossi che si scontravano si offendevano ecco non va bene insomma io non sono d'accordo sulle offese sulla violenza però l'energia di un gruppo di tifosi come quello della Fossa io non mi ricordo se l'ho mai visto in nessun'altra parte sicuramente c'era un tale divario di tifoseria tra la Virtus e la Furtitude era talmente più fantasiosa vera e calorosa e importante per la squadra la tifoseria della Furtitude e non solo la Fossa ma in generale l'ambiente che in quegli anni cresceva e abbracciava la squadra era quasi patetico prendere in giro era quasi ridicolo prendere in giro la Virtus perché poi le poche volte che si andava che ne so a guardare con il lanternino dove erano i tifosi della Virtus e come si muovevano erano abbastanza buffi nel senso non lo dico con cattiveria perché ormai per me sono anche finiti quel periodo un po' sai di antagonismo adolescenziale quasi non so da guerriglia una cosa che adesso per fortuna l'età mi ha portato molta più giocosità in queste cose però dai era abbastanza ridicolo io credo di aver raggiunto un orgasmo e un entusiasmo incredibile nel momento che saliti dalla 2 l'allora Yoga eliminò la Dietor nei playoff quello fu una cosa credo fosse inarrivabile perché in quel momento era veramente confrontarsi contro i Colossi di Bologna l'intoccabile Virtus di Bologna e noi fortitudo ne ho promossi ne due li eliminammo e fu una cosa una cosa pazzesca il derby è il derby il derby è dar tutto per per battere le merde punto cioè non c'è non c'è non c'è altro poi puoi essere primo e ultimo ultimo e primo infatti potevamo essere noi primi loro in difficoltà ma il derby era sempre derby e non c'era risultato garantito o scontato era una partita a sé dove chi era in difficoltà era più per assurdo era più avvantaggiato veramente per me come allenatore come persona le sfide più grandi sono state incontrare loro sul campo sono orgoglioso sono orgoglioso veramente orgoglioso per se stesso per la società per voi perché mai ha perso la partita contro di loro grazie io ho una moglie via regina una moglie che il basket non sapeva cosa fosse una moglie che ho portato per la prima volta a vedere una partita quando nell'88 stavo ancora a Bologna un derby per la prima volta per cui partire a vedere una partita per Canestro da un derby giocato in trasferta nello spicchio alto della curva è qualcosa di particolare è una cosa che colpisce soprattutto se poi lo vinci soprattutto se poi lo vinci da squadra sfavorita in quella partita in trasferta soprattutto se poi da quel derby nasce una striscia positiva una striscia positiva che aveva portato mia moglie a vedere otto derby di seguito tutti vittoriosi e ogni volta che io chiamavo Pungetti dicendogli Fabrizio vorrei a vedere la partita la prima domanda che mi faceva era ma tua moglie viene? allora l'accordo era se veniva mia moglie non c'era mai problema mi ricordo adesso non so quale derby non quello di meno 30 ma venne venne l'avvocato Porelli che mi sono sempre stati amici ovviamente e ha detto come tu faccia a portarmi via dei tifosi non lo so ma ci sei riuscito di questa cosa ci sono due aspetti una parte è che tutti siamo persone che vanno fanno brigano e quindi nel confronto delle persone assolutamente niente nel confronto dello status di essere virtuosino fortitudino è una scelta che uno fa nel loro caso sbagliata tanto tempo fa era proprio ancora una differenza inizialmente fine anni 70 inizio anni 80 era proprio ancora una differenza di ceto cioè proprio noi eravamo i Maragli loro erano quelli che andavano da Zanarini erano i Fighettini di Bologna c'era l'andare al palazzo noi dicevamo sentivamo loro come quelli che andavano la signora con la pelliccia noi eravamo quelli che fieri del fatto di essere in cento a un derby e di far sentire solamente noi e scoprire fuori che loro erano in 6.000 ma sembrava che erano loro in cento perché la sciarpina la nascondevano e magari fra loro facevano le battute e se avevano vinto dicevano forco cane abbiamo perso per essere sicuri di arrivare a casa poi effettivamente non è che sia mai successo niente però noi eravamo la parte sanguigna la parte vera la parte che andava a buttare fino all'ultimo urlo fino all'ultima cosa che aveva in gola per la propria squadra ed era così era proprio così loro diventavano matti diventavano matti e sentire per ore e ore abbiamo fatto le famose partite del coro dell'unico coro tenuto per due ore che penso che l'avranno sognato non sono riusciti a inserirsi con uno dei loro mai noi eravamo molto pochi però bello un bellissimo derby fu quello del 7 gennaio che vincemo Mercury o I e B contro la Virtus e io ero a scuola a Righi e entrai a scuola festeggiamo con Don Corrado che era il prete della fortitudo della sede e che ci si che ci aspettò a braccia aperta a sbocciare noi fortitudini contro i virtussini ma lei sai come è sempre i virtussinacci si beh qua posso svelare un segreto voi vi ricordate che una volta entrò in campo un coniglio chi vi ha il palazzo da tanti anni se lo ricorda era un coniglio avvolto in una bandiera bianconera quel coniglio me lo diede un mio carissimo amico che aveva che oggi è un grande dirigente regionale poi mi fermo non dico altro il papà aveva un allevamento di conigli mi diede il coniglio io non riuscivo a far entrare il coniglio ed entrò un altro grande c'è lì mi aiutò un altro grandissimo tifoso fortitudo che oggi non c'è più che è il lungo voi tutti ve lo ricorderete grande speaker che lui era già dentro e poteva entrare siccome il coniglio era comunque dentro una sporta ed era abbastanza piccolo riuscimmo a farlo passare in mezzo alle grate della biglietteria prima di passare lui era dentro e poi lo portò in parterre poi a un certo punto liberammo questo coniglio in campo e fu un boato questa è un'altra di quelle cose che credo tutti si ricordino ma io quel coniglio oggi posso dirlo lo portai dentro io quando c'erano i derby mi ricordo che c'erano già non tanto delle coreografie organizzate però bruciare la maglia bianco nera o bruciare la bandiera avvenivano delle cose anche molto forti e molto potenti dentro al palazzo credo che siano sempre avvenute poi pian piano è arrivato proprio invece anche un'organizzazione di coreografia sempre più belle sempre più organizzata però è sempre stato qualcosa di molto forte una volta compravo i tamburelli alla stand si spaccavano una volta compravo le raganelle anche lì un disastro poi qualcuno lo buttava in mezzo al campo quindi poi le cose di legno ta 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 ecco lì dopo ecco ci fu la grande idea di Tullio mio fratello prendevo in affitto un tamburo lui ordinò questo tamburo a 5000 lire al mese mi sembra facciamo questa colletta e loro dopo avevamo il tamburo con la batteria prendiamo questo K che faceva il batterista pian piano adesso i primi tamburi sono stato io che li andai a noleggiare da Rubini andai a noleggiare una batteria 5000 lire al mese facciamo una colletta e entriamo con questi tamburi al palazzo faceva un mio amico batterista K che suonava anche bene e nessuno ci disse niente per i primi momenti un'idea vista in televisione che è stata particolarmente accattivante un cartellone pubblicitario una battuta fra amici spesso questo è il modo la V dei culi quella in movimento il cavallo di Troia il cavallo di Troia è venuto in mente perché uno di noi stava rileggendo la storia di Troia e gli si è accesa la lampadina di riproporre questa cosa in curva quindi quasi sempre nasce in questo modo per una pura casualità il momento più significativo più importante è stato la realizzazione della coreografia dove c'erano le strisce che si giravano da una parte Orgoglio Fortitude dall'altra parte Fossa dei Leoni il momento clou che era quando il nostro caro amico Lungo dava una botta sul microfono perché era il segnale convenzionale faceva girare le strisce magari a oggi rispetto al Pac-Man rispetto a altre coreografie che abbiamo fatto anche molto più elaborate potrebbe essere una cosa abbastanza semplice però in quel momento è stato per quanto mi riguarda un'esperienza veramente importante essere riuscita a terminarla a farla e avere il clamore di tutte le persone che stavano intorno alla Fortitude è stata veramente una grandissima soddisfazione a parte che ormai è diventata talmente bello venire a vedere quando pensiamo che valendo la pena la Fossa si prepara venire in anticipo per non perdere la coreografia che fa parte della partita anzi molte volte è meglio che la partita io sono rimasto sconvolto la prima volta che ho visto lo striscione che copriva tutta la curva per esempio che magari può essere una banalità adesso però vedere la prima volta mi ha veramente colpito quello che mangia il pacman il giochino del pacman che gira in mezzo alla curva mi ricordo quelle che prendono per il culo la Virtus che fanno sempre godere questo sicuro misi questa maglia che mi fu data io misi molto volentieri perché era qualcosa che sentivo chiaramente anche quello da tifoso della Fortitude come non gioire per un fallimento della Virtus volevamo mostrare la tastiera storica che segui da Tura da 20 anni ormai 18 per la decisione nei club di tutta Italia una volta qua c'era attaccata una sciarpa della fossa piccolina che tenevo lì per feticcio e devo dire che questi adesivi quando si andava a suonare in piazze dove il basket non è sentito magari dicevano ma che si è delaziali allora bisognava specificare che c'era una F dentro se invece si andava a sentire a suonare in piazze tipo a Treviso o a Pesaro queste parti qui c'era anche qualche discussione qualche insulto tra il palco e qualche una bella riguardo Vilalta e il coniglio che è scappato in campo con una maglietta con suo numero è stato un derby in casa della Virtus che i ragazzi erano pochissimi li avevano andati e hanno letto il giornale durante il riscaldamento per non so quanti cioè per tutti il riscaldamento poi ha fatto adesso hanno chiuso tra l'altro abbiamo anche vinto mi sembra hanno chiuso il giornale poi hanno iniziato a cantare dal primo minuto cioè alla fine eravamo stanchi anche noi gli dico basta noi cantammo ininterrottamente dal primo all'ultimo minuto ari 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 mo ari mo ari mo cioè una cosa pazzesca dal primo all'ultimo minuto della partita tanto è vero che i tifosi della Virtus erano impazziti perché loro pensavano che noi a un certo punto lo smettessimo invece no ari 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 mo ari mo quella lì tutto il tempo non sono mai fermati un minuto cioè si sono andati in cambio credo o no cioè tu no inventi a lavo gioia che cantavano in 50 poi 50 zitti sempre gli stessi top c'era quello che riprendeva la trasmissione televisiva del come si chiama del pranzo e servito esatto mi veniva la prova del cuocomo perché sono ingabbiati i tempi però del pranzo e servito quelle sono ancora foto immagini che ancora con i miei amici a volte ci ricordiamo mi era piaciuta la morire quella del pranzo e servito che tra l'altro si è si è un po' bloccata all'inizio con la cassetta così però era bellissima dopo c'era la canzoncina che mi era rimasta in testa e non andava più via e poi quando giocavo a Siena siamo venuti a Bologna e c'erano tutte delle merda con le varie bardate con i colori delle contrade senesi è stata una bella trovata mi ricordo il derby il vecchio derby di Eurolega per cui delle manifestazioni da parte delle coreografie da parte della Fossa dei Leoni e del suo pubblico veramente incredibili le coreografie fatte da la Fossa non ti ricordi no no mi ricordo però dai una una quella viene fuori la rocce delle natiche come non mi ricordo guarda mi raccontano qui in Spagna in Spagna qualcuno mi ha detto ah ma quella con i culi ce la ricordano lo sanno lo sanno anche qui lo sanno anche qui mi dice ah ma quella coreografia che avete fatto con i culi ma tu c'eri come non c'erano quella della V una grande V fatta come tutti ricorderete io l'ho visto dalla foto il culi credo che quella la bellissima la coreografia assoluta è quella dei culi allora abbiamo pensato per rimanere rimanere sempre nella godardia e per spiazzare i perbenisti virtuosini che avrebbero detto ah come i soliti i volgari facciamoci un bel paio di mutande rosa che raffigurano un sedere e mettiamo quelle e poi dicevamo volete che in mezzo a queste 300 400 persone non ci sia qualcuno che ci mette la chicca infatti ci andate a vedere le foto c'è qualcuno che ci ha messo la chicca io ho le mutande che indossava Paolo le conservo come un cimeglio in mezzo ai dischi di platino ai dischi d'oro ci sono anche le mutande di Paolo perché con la fotografia della V perché credo che fu una delle cose veramente quella è gogliardia pura e anche grande giocosità nello sfottere i tifosi dell'altra parte tifare fortitudo ci ha insegnato che siamo più forti di quanto immaginiamo e che la nostra forza non consiste nel sognare una vita luccicante ma di sentirci vivi anche nelle sere senza luce e anche negli anni che altri definirebbero bui noi di anni bui non ne abbiamo mai avuti difficile ecco quello sicuramente difficile come per due stagioni consecutive doversi giocare la vita per poter dire siamo ancora qua Cremona una trasferta fatta a Pasqua e facciamo solo un pullman ed eravamo delusi perché pensavamo che per una partita salvezza perché se perdavamo a Cremona si rischiava di dare in serie B ci fosse più entusiasmo un pullman arrivò questo pullman lì il piazzale del palasport di Cremona e vedemmo questo piazzale pieno di macchine il problema era un altro che erano tutte targate Bologna cioè una marea di gente era venuta su in macchina e di fatti quando entrammo c'era tutto il nostro settore che era pieno di tifosi di Bologna si parla di 2000 persone che è venuta su da Bologna e fu e mi ricordo anche questa cosa qua fu quella la prima volta in cui il lungo il mitico lungo spica del palazzo Danfranco Malagoli che spero che dalla su ci guardi ancora lanciò l'idea di fare la presentazione con lui i nomi e noi i cognomi dei giocatori prese il megafono in mano arringò la folla presente e disse ragazzi seguitemi facciamo una cosa nuova ed era il 91 e da lì nacque questa non moda questa abitudine soprattutto la paradosza poi presa anche all'olimpico di Roma di dire lo speaker dicevi i nomi e la curva i cognomi feci con la fossa la trasferta di Reggio Emilia per la salvezza quella di Ali Begovic per intenderci e la feci proprio in treno andata a ritorno con sfilata eravamo in pochissimi saremmo stati una trentina poi in via indipendenza a sfilare per la salvezza ottenuta avrei ricevuto anche il benestare dei miei perché Reggio Emilia era abbastanza vicino mi ricordo che ci fecero stare in stazione a Reggio Emilia un'eternità un'ora e mezza due ore adesso era tanto tempo fa e mi ricordo che eravamo veramente tanti stipati in un angolo del palazzetto ed fu come vincere uno scudetto è stato c'era tanti ragazzi che di scuola c'erano anche dei virtussini a tifare per noi quel giorno lì incredibile invasione di campo una felicità incredibile incredibile lo scudetto da tifoso chiaramente ho festeggiato super contento ma forse anche perché avevo 15 anni 14 anni quella salvezza lì fu qualcosa di speciale da vivere quando mi sono trovato in quella brutta situazione di Serie A2 a sostituire il povero Pilastrini e che ci giocammo la permanenza in Serie A a Reggio Emilia tirando fuori quel mezzo miracolo di salvarci che non avevamo mai vinto una partita in tutto il campionato fuori casa andavamo proprio a vincere quella che doveva essere quella partita che ci dava il colpo di grazia oltretutto con un americano in meno già da 4-5 partite e scoprimmo quel fenomeno di Alibegovic che dalla sera alla mattina ci diede una di quelle cariche e subentrò nella squadra come fosse uno che era lì già da tutto l'anno mi chiamavano per ultima volta tu devi venire questa è una storia quasi di 100 anni fortitudo se questa volta perde scomparirà e là veramente devo dare atto che la persona che mi ha convinto mi ha fatto capire l'importanza di fortitudo che io in quel momento non conoscevo era Zare Markoschi e Dario Santrolli loro mi hanno chiamato mi hanno raccontato ma tu non scherzare mica perché fortitudo è come la religione e vado a giocare con questa squadra perché mi sento qualcosa non so cosa ma sento che c'è una cosa importante sono arrivato circa alle 11 mezzogiorno sono andato a dormire mi hanno portato allenatore Lino Bruni e un certo signorino che conosciamo bene era Pete Myers che parlava bene italiano e lui doveva essere questo a tradurre e poi cominciamo a parlare questo che piace a me loro non sapevano niente di me allora tu cosa fai dico io tiro molto bene gancio sinistro e loro ah bene 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 corro anche bene in contropiede ah bene 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 gli chiesi dove in che ruolo giocava e lui disse che poteva giocare sotto se lo marcava un piccolo e faceva il pivot ma non aveva la stanza del pivot oppure avrebbe giocato fuori se lo marcava un pivot perché lui aveva un gran tiro da tre punti e allora io che ero andato a parlare con lui in albergo assieme a Pete Myers che era l'americano che ci era rimasto e disse appunto ma guarda o è un fenomeno o ci ha preso per il sedere questo lo sapete cosa ragazzi portate voi palla qui e di resto ci penso io e Daniele Albertazzi cominciò a ridere e dice se questo fa per noi domani metà di questo che ha detto noi saremo salvi mamma mia e invece ti si dimostrò talmente fenomeno che fece una gran partita si trascinò dietro i Pete Myers che fece un'altra partita uno splendido dalla Mora che in quel periodo era un ragazzo molto giovane quindi aveva questi alti e bassi e quindi andiamo a vincere a Reggio Emilia che Fossa uscì fuori con quel bellissimo canto che mi seguì tutto tempo con fortitudo oh 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 ci fu la promozione in A1 e contestualmente il passaggio di proprietà nelle mani di Giorgio Seragno, quindi un momento molto importante. E poi naturalmente gli spareggi salvezza che io mi ricordo molto bene, la partita di Reggio Emilia, l'anno prima ancora, lo spareggio di Cremona. Quindi comunque dei momenti importanti della storia di una società. Quindi direi che quello è stato un bel ricordo, anche perché era una partita a rischio, visto i 2000 tifosi, la famosa curva di fronte, che non so che cosa sarebbe saltato fuori, capito, se avessimo perso. Avevamo inventato, qualcuno di noi aveva inventato delle cose per cui male che andava, adesso non entriamo nei particolari, perché no, male che andava non si perdeva. Quella partita lì forse si poteva ripetere, ma perdere non si poteva perdere. C'erano due o tre soluzioni di riserva. Avevamo comprato, che ci abbiamo messo tanto, perché siamo andati 3-4 all'etrauto e non ci volevano dare delle candele. Avevamo saputo questa cosa, che la ceramica delle candele è uno dei materiali più duri con il quale se dai un cricco così spacchi qualsiasi vetro. Quindi mi ha detto, va bene per il vetro, forse anche per i tabelloni. Male, male che vada, qualche tabellone andrà in frantumi. E quindi le prove le abbiamo fatte su quelle dei giardini di Margherita. Qualcuno aveva, nelle walkie cup delle Coca-Cola, le aveva riempite di olio, che potevano andare a finire sul parquet, l'acqua si asciuga, forse l'olio no. Insomma, c'erano tre o quattro soluzioni per vedere di o far sospendere o far slittare. Non poteva finire così. Tifare fortitudo significa da sempre lottare per resistere. Significa trovare la forza per fare quelle ultime bracciate che ti portano sano e salvo dall'altra parte della riva. Con qualunque corrente, con qualunque clima, con qualunque insidia. Per noi farcela non vuol dire battere tutti, ma battere noi stessi. Ogni volta stupendoci di quanto siamo capaci di combattere e di quali risorse riusciamo a scovare, anche quando pensiamo di non averne più. Nella fortitudo c'è qualcosa che non ha nessun'altra squadra in Italia, non solo della pallacanestro. L'entusiasmo che ti dà la fortitudo, che ti dà la forza. Quando tu entri in campo, e mi ricordo quando entravi in campo la squadra, c'erano quelle 5-6 mila persone che salzavano tutti in piedi, da provo a dire, ed era un momento straordinario. Ma non solamente quando vincevamo, ma anche quando perdavamo. Non ho mai visto una persona che abbia fischiato o urlato contro la squadra. E questo è un motivo di soddisfazione anche per chi la dirige. Il fascino che ha la pallacanestro, anche in questo momento, dentro la città di Bologna è cambiato, però il popolo fortitudo probabilmente non cambia mai. Rimane sempre come statuario nel suo modo di porsi nei confronti dello sport. Io penso che, tolte le gogliardiche valutazioni che si possono fare intorno alla fossa, al tifo, agli ultra, se questo tipo di concetti moderni, penso che la fortitudo sia un buon esempio di come lo sport sia aggregazione fra le persone. Aggregazione che non è per vantarsi della vittoria, oppure come accade al giorno d'oggi, anche del fatto che bisogna andare in ufficio il giorno dopo a dire quanto sono stato figo perché ho visto questo, ho fatto quell'altro. È un esempio, i colori bianco-blu sono un esempio di come al giorno d'oggi ancora lo sport possa essere aggregazione fra le persone e questo è ciò che secondo me Bologna, in particolar modo come città in Italia, ha molto bisogno. Aggregazione posti in cui le persone possano realmente stare insieme e condividere gioie e dolori di una passione, che sia la sport, la musica, l'arte, la cultura, qualsiasi cosa. È un qualcosa di unico, di irrazionale, di irripetibile, di non trasferibile altrove. Spero soltanto che serva a far rinascere la fortitudo dallo sprofondo in cui è caduto perché sarebbe veramente ancora più amaro se tutto questo, amore, se tutta questa passione della gente che nonostante tutto ha voluto esserci venisse per l'ennesima volta calpestata come è successo ultimamente. Anche nei momenti più brutti comunque c'è sempre stato, c'è sempre vissuto, lo spirito nostro purtroppo è brutto da dire, abbiamo perso tanti scudetti che avevamo magari già vinto, un po' per colpa nostra, un po' per colpa di qualcun altro, di pelato, che ce l'ha tolto due volte, però devo dire che comunque per dieci anni abbiamo fatto la storia della paracanese italiana. Il primo lo aspettavamo da talmente tanto tempo, poi io avevo fatto l'inno quell'anno insieme a Nosei e a Franz Campi e ci eravamo adoperati perché lo sentivamo che era arrivato il momento giusto e mi sono messo a piangere. Da spettatore, parentesi, tifoso, chiuso la parentesi, il primo perché la prima volta comunque è la prima volta e le sensazioni della prima volta sono assolute, non esiste mai una cosa paragonabile alla prima volta. Perché siamo riusciti a coronare un sogno che era non solo mio personale, ma era di una mezza città intera che aspettava questo risultato, dai tifosi, da seragnoli. Quindi sportivamente parlando è stato sicuramente quello. Devo dire che lo ricordo spesso. Durante le vacanze di quest'anno, prima della Befana, ero qua con mio figlio e mia figlia, abbiamo fatto una passeggiata sotto la neve lì in Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno e mio figlio me l'ha ricordato e mi ha detto ma è vero che sei andato fino là in alto per mettere il coniglio? Secondo te? Chi poteva farlo se non io gli ho detto? Non ero il capitano di quella squadra, però chi poteva farlo? Calton gli ho detto, ma secondo te? Va Calton o Dan Gheghe? Vado io. Ero io il... Non poteva andare nessun altro, non poteva andare nessun altro secondo me, mi sarei incazzato molto. Però mi ricordo lo scudetto del 2005, quando è finita la partita, quel famoso tiro all'ultimo secondo a Milano, eravamo, io sono esploso, è una gioia incontenibile, avevo la Vespa, sono corso come un matto giù per via San Mamo, sono arrivato in piazza Nettuno e praticamente ero il primo, non c'era nessun altro e ho pensato, la classica sfiga della fortitudo sta a vedere che ci hanno ripensato con l'istante replay, non c'era nessuno, mi ha preso uno sgomento addosso, vi giuro, uno sgomento terribile. Forse l'attesa infinita di quel minuto che un minuto è stato, però pensavo veramente fosse un'ora, perché eri lì, ero abbracciato a Billy, ero abbracciato, ed era veramente una cosa, cioè un'emozione incredibile, perché aspettavo lì, uno scudetto, il mio primo scudetto è stato quello, quindi aspettavo lì con loro, col pubblico, tutti comunque, era un'atmosfera particolare, perché comunque anche il pubblico di Milano era un pubblico importante quell'anno lì, comunque c'erano 12 mila persone al palazzo, pure l'arrivo al Paladozza, sai, arrivare le due di notte, trovare quant'erano, 5 mila persone a Bologna. Da capitano vincere lo scudetto credo che sia stato il top, credo che ancora oggi nei miei viaggi c'ho sul computer i video, i vari video di quell'anno lì, di quella partita, di quella finale, della festa fatta lì a Rimini e piango, piango perché so che quei momenti lì non li vedrò mai più e non li vivrò mai più, quindi sono cose che nello sport succedono, cioè che passi degli anni fantastici in un posto e poi dopo per varie cose cambia tutto, però sono anni che non scorderò mai, mai. Credo che il tifoso della Fortitudo abbia sentito quanto io dessi per la Fortitudo. Lui non mi ha fatto i complimenti per le partite, non mi ha fatto i complimenti per lo scudetto, non mi ha fatto i complimenti per i derby vinti, anche se molto importanti, ma a parte gli scherzi mi ha fatto i complimenti per quello che ho dato, perché dice tu hai dato tutto quello che avevi, per me era questo importante, quando vai a casa bisogna, non sempre sono riuscito a farlo, però quando vai a casa bisogna che ti guardi allo specchio e dici io ho dato tutto quello che potevo dare, poi potrai anche non vincere, potrai anche non ottenere risultati, ma io dico al mio figlio, Gioel, qualsiasi cosa che fai nella vita, nello sport, nel lavoro, qualsiasi cosa, dai il massimo, dai il massimo e nessuno ti può tradire niente, ma soprattutto tu sarai a posto con te stesso, ma ciò che mi dà la spinta, l'energia per fare quello che faccio, quello che ho fatto, è l'affetto, se io mi sento ben voluto in un posto, è quel qualcosa in più che mi fa fare cose che magari ad altri giocatori riesce difficile, è quel valore aggiunto, se io sento che il posto in cui lavoro, sono ben voluto, sono ben accolto, sono importante per quelle persone lì, allora mi colpisci nel mio punto debole. Io molte volte parlando anche ad arbitri, che può sembrare un'eresia o può sembrare che non c'entri nulla, ricordo uno striscione che è sempre presente al Paladozza, che lo vidi la prima volta e continuo a vederlo, che anche dopo la peggior tempesta, il sole tornerà sempre a risplendere, io credo che questo sia il motto di noi fortitudini, e sia il motto di chiunque, è valido per chiunque comunque faccia sport, nel senso che ci può essere una tempesta, ci può essere un momento negativo, ci può essere qualsiasi cosa, ma con la forza di volontà e con i valori che ognuno di noi ha, chiaramente può tornare a risorgere. Ci sono rapporti professionali, rapporti professionali dove arrivano giocatori, dove arrivano allenatori, dove arrivano dirigenti, ma per me come persona contano molto di più rapporti umani, e in questa società questi rapporti sono al massimo, veramente al massimo, dove non voglio dire io, non posso adesso dire bugie, stavo là solo per amore, perché avevo contratto e guadagnavo, ma veramente chi non è in grado giocare per amore come solo per amore, non può stare là. perché ci mettono l'anima, quando sei in campo e le cose ti possono venire male, ti riesce una cosa male, sei giù di di, sai, che non fai canestro, che stai perdendo, guardi la fossa, che sia che giochi in casa, che se giochi fuori, guardi la fossa e vedi questo gruppo che ti applaude, ti incita, stando sotto i venti, e ti dà animo, cioè, sai, quando, quando pensi che, che tutte, tutte le cose ti stanno venendo male, ti stanno uscendo male, vedi loro e dici, dai, crediamoci perché loro ci credono. Fossa è colpevole in gran parte di questo culto fortitudo e di questo culto di tifo, sicuramente è unica, unica tifoseria italiana che è internazionale, che non è solo italiana, perché ci sono casi in Germania, grazie a quella partita con Alba, che è stata sul Desef, alcuni giocatori slavi che hanno giocato lì, che tutta ex Jugoslavia, che sappiamo tutti bene che tipo di palacanestro si gioca, hanno un culto di fortitudo, di F, perché? Per la fossa. Ieri ho visto Paolo, purtroppo ho visto anche degli strisioni tristi che ricordavano degli amici scomparsi e ci siamo detti che vorremmo augurare a tutti quelli che ci sono, vorrei augurare a tutti quelli che ci sono di essere ancora lì fra 50 anni a cantare e a gioire per questa squadra. Ovviamente se la fossa potessi, ma cosa che non credo, spero qualche mio nipote, visto che ormai ne ho sei, potessero essere lì quando la fossa certamente festeggerà i 100 anni, questo sarebbe proprio il massimo, di lassù farò il tifo perché qualcuno dei miei che sia lì quel giorno. È stato incredibile intanto sentire 300 tifosi che cantavano il giorno del raduno. Questo ci ha dato subito il senso della nostra missione, eravamo qui negli spogliatoi a parlare per la prima volta con la squadra e sentivamo che ci attendevano su 300 tifosi con i tamburi che cantavano che erano già pronti a sostenerci. Poi abbiamo sentito il pubblico, i tifosi, la fossa vicina in ritiro quando sono venuti a offrirci la cena in ritiro, anche quello è stato un momento particolare e poi decisiva la partita con Osimo i primi di settembre con 4.000 persone. Lì onestamente sono venuti brividi a tutti nel salire la scaletta in quel momento lì, nel momento più basso della storia della fortitudo c'era una risposta del genere, nessuno ci credeva e siamo finiti sulle pagine dei quotidiani nazionali sportivi proprio perché la notizia era incredibile e questo onestamente su giocatori, allenatori ha avuto una grande potenza a livello motivazionale proprio perché ci ha fatto sentire responsabili e ci ha fatto sentire partecipi di qualcosa di veramente importante e adesso tocca a noi sul campo. Tifare fortitudo è anche vedere quel sorriso che compare sulla faccia di chi ci odia ogni qualvolta siamo in difficoltà ma noi siamo la forza dei leoni mai nessun ci fermerà. saluta la forza dei leoni la forza dei leoni Noi, 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 noi Pado I lavori di fatica li faccio sempre io però Beh io che devo fare? Era qua mi sembra, in questo studio qua proprio Porca trogia, c'era già Sti Matera che lavorava di lì Si mette a sedere Tutta la passa era sudata Che merda Ciao sono il Pilu Diciamo che non vi ascolto mai, però ciao a tutti i bastardi che non siete altro, perché siete una gran massa di bastardi. Però non hai nominato il fossimo berevole. No, scusa, cazzo, torno a andare, hai ragione. Vado? Ciao ragazzi, anch'io quando non bello o non lavoro, ma Dio di un Dio, hai ragione, hai ragione, è vero, non mi viene. Mi sei diventato il padre della forza. Cazzo non fai. Ma hanno anche iniziato a venire, ragazzi. Cazzo mi invento. Fai la voce? No, così, fai il migliore. E a cantare sempre gli stessi cori. Ssss, ssss, portarci nel tempo. Momenti di umorismo, di sfottò, grazie, è arrivato, è arrivato il, grazie a me. No, perché fra un solitario e un tost qui, dobbiamo mangiare, capito? Vai avanti, vai avanti con le domande. Io sono Yasmin Repesha, quando, quando, anch'io quando non, quando mi viene al mente. Martinelli mi ricordo, posso dire. No, no, no. Sembra un po' che la mag... Aspetta che devo provarla a dire senza imbarbagliarvi, cioè, auguri... No, com'era la frase? Auguri Fossa, 40 di questi anni. Altri 40. Altri 40 di questi anni. L'ha fatto. Auguri Fossa, altri 40 anni di questi 40 anni. No, com'era la frase? Allora, auguri Fossa, altri 40 di questi anni. No, aspetta. Ciao, l'ha fatto. Aspetta che devo pensarla. Auguri Fossa, altri 40 anni di questi anni. No, altri 40 di questi anni. Altri 40 di questi anni. Scrivilo. 40 di questi anni, va benissimo. Altri? 40 di questi anni. E io cosa ho detto? Altri 40 anni di questi anni. Auguri Fossa, altri 40... Ok. Ok, auguri Fossa, altri 40 anni... No, altri 40... No, non mi ricordo più. Auguri Fossa... Ma scrivilo, me lo puoi scrivere? Auguri Fossa, altri 40... No, altri 40 di questi anni. Auguri Fossa, altri 40... No. Altri 40 di questi anni. Non possiamo anche cambiare frase, questa maniera. No, com'è? Allora, se non fai 40 anni di Fossa, Auguri a tutti dal Fanto. Da Adriano, scusa. No, no, mi piaceva fare quella di Fossa. Auguri Fossa, altri 40... Di questi anni. Altri 40... Allora. Allora. Auguri Fossa, altri 40 di questi anni. Ciao da Adriano. Devo rifarla. Allora. 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 Grazie.